A Mario Roseto disegnare un nuovo comune più vicino alle necessità dei suoi abitanti, ridare splendore al suo territorio. È con questi obiettivi che si apre la campagna elettorale per le elezioni del nuovo sindaco previste per il 2016. 13 mesi per raccogliere liste civiche e affrontare la corsa alla nomina di sindaco. Amor Roseto è il nome della coalizione di un polo di liste civiche, più liste questa mattina si sono messe d'accordo per un attorno a un patto nel voler tornare ad amare Roseto, cercando di restituire gli spazi, la vivibilità e l'accoglienza a tutti coloro che vogliono venire qui a Roseto, un progetto politico che parte 13 mesi in anticipo perché è il primo passo di un lungo cammino e siamo solo all'inizio. L'liste civiche è come risposta all'assenza di gruppi politici capaci di farsi sentire vicino al territorio e alla sua comunità. La voce dei cittadini si fa più forte e si creano nuovi scenari. Vogliamo dare un progetto che sia un'alternativa a quella che fino adesso, che purtroppo fino adesso i partiti hanno amministrato Roseto, anche io ho amministrato Roseto, quindi lo so che cosa vuol dire questo. Vogliamo dare adesso un'alternativa che possa intercettare quelli che sono i reali bisogni dei rosetani e dare le risposte adeguate. Un quadro di decadenza per qualcuno che lascia un partito forte sulla cresta dell'onda come il PD per unirsi invece alla protesta che viene dal basso. Di fronte alla situazione politica rosetana con un centro-destra ridotto al chienterismo spiccio e un partito democratico in quelle condizioni non si siamo sentiti di non dare ai rosetani un'alternativa. Oggi non nasce un'alternativa ma l'alternativa per Roseto. Grazie.